Salve, salve da Marco Calabro per conto di Cellocost.it, ci troviamo oggi a Bogotà in Colombia nel terminal nord degli autobus che è il terminal più frequentato e effettivamente è fra i meglio gestiti di tutta l'America Latina. Stiamo parlando in questo caso della Comotor, è una compagnia che io ho utilizzato per andare da Ibagué a Medellin è una compagnia che ha dei livelli qualitativi buoni in comparazione al prezzo, significa che il rapporto qualità-prezzo della compagnia è un rapporto qualità-prezzo interessante, quindi sicuramente è una compagnia da tenere in considerazione. Che cosa dire di più? Non tutta la flotta è modernissima, però in linea di massimo è ben curata. Forse l'unica eccezione potrebbero avere maggior cura dell'igiene, non degli autobus, ma quanto dei parcheggi dove gli autobus vengono alloggiati. Grazie per seguire i video di Cellocost.it e ci vediamo al prossimo video.